...fiere locali, capita sempre di registrare il debutto in qualità di addetto ai lavori di qualche persona che è già nel nostro settore, ma in qualità di utente. Costoro sono presenti in maniera anche abbastanza importante dal punto di vista numerico, sia tra i caravanisti, che tra i camperisti, che tra i campeggiatori, e possono essere presenti a vario titolo. Chi, ad esempio, opera nella carta stampata, chi nell'ambito del commerciale. Quest'anno, soprattutto, si sono registrati tre debutti che hanno un particolare significato, non solo per me, ma anche proprio per il comparto. Alludiamo a Davide Bartezaghi, che è uno storico, affermato, concessionario di automobili, che ha debuttato nello stand della Narbonne Assessuale, ma soprattutto debutta nel settore, come concessionario anche di caravan, non solo di autovetture. La sua concessionaria è la Auto Nord Karen Caravan di Vanzago, provincia di Milano. Alludiamo a Mirko Bergesio, che dopo anni e anni, decenni, di onorata carriera in quale caravanista, lo abbiamo visto nello stand della Knaus, in qualità di venditore, a tempo pieno, del concessionario Fustinoni di Curno. L'ultimo, ultimo ma non ultimo, Carlo Volta, che è invece, saltuariamente presente, è stata un'esperienza, diciamo una sua questa, per la prima volta ha debuttato nell'ambito commerciale, anche in questo caso, con un concessionario in uno stand. Ma dov'è il punto? Il punto vero è che l'utilizzo di utenti non importa in che ambito della vita lavorativa di un'azienda, di varie attività, può essere commerciale, può essere amministrativo, può essere progettista. E qui, ad esempio, penso a Ernapov, a capo di visione, proprio del progetto caravan di Adria Mobile. E significa molto, perché la competenza diretta, la competenza proprio sul terreno, i, come si dice, i laureati all'università della vita, hanno un loro perché. Proprio per questo, chiedo scusa a chi è già nel settore da tempo, i vari Nico De Silva, Andrea Zanini, eccetera, e tanti altri, però, in questo caso, mi piaceva celebrare questi tre, proprio nel settore caravan, perché è un settore che viene tenuto artificialmente, in maniera artificiosa, basso come numero di immatricolazioni, perché ci sono troppi concessionari che non hanno capito che ci si fa un sacco di soldi. Ma questo è un problema, che non è mio, è loro, e che se lo tengono. Invece, per quel che riguarda questi tre professionisti, complimenti, ben arrivati, e speriamo di tenervi nella nostra grande famiglia ancora a lungo.